Durante gli incontri dell'assessore alla via abilitale, Sia Manfredini, che intende migliorare il servizio dei bus urbani, non si era parlato di privatizzazione, ma questa è ormai la realtà. Dopo aver ceduto metà delle azioni nel 2001, ora il Comune vende anche il resto e il gruppo Arriva gestirà i bus autonomamente, secondo un contratto con gli enti locali. Poi si procederà a nuove gare d'appalto, ma quest'anno la legge di stabilità del governo Renzi impone che i comuni abbiano meno società partecipate e Cremona disciplinatamente si adegua. Una decisione che mette in allerta una parte della lista sinistra per Cremona, che comprende l'altra Europa con Cipras, SEL, Rifondazione e alcuni comitati. Il problema è che parte dell'elettorato di sinistra, confluito poi nei voti a sostegno del sindaco Gianluca Galimberti, proviene proprio da utenti e dipendenti di KM. E la lista di sinistra che ha sostenuto l'assessore Rosita Viola e il consigliere comunale Filippo Bonali entra in tensione. C'è chi teme che la privatizzazione comporti la conseguenza di una prospettiva di riduzione degli stipendi e dei diritti di ferie, maternità e malattia, passando dal settore pubblico a quello privato. Da parte dei sindacati di base sorge poi il timore che il privato tagli le corse dei bus, mettendo in difficoltà chi non può muoversi in automobile e che una decina di dipendenti perde il posto. Un pericolo che la lista sinistra per Cremona ufficialmente ritiene invece di aver scongiurato, come ha sostenuto nelle scorse settimane la segretaria provinciale Celestina Villa, che ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali. La preoccupazione fra i sostenitori della lista invece aumenta anche in vista di un indebolimento complessivo del comune rispetto alle società private. Iuri Brocchieri, per il sindacato USB, pensa invece ad altri modi per tagliare le spese, ad esempio facendo pagare il biglietto ai passeggeri. I portoghesi, come ormai si stima, sono più della metà.